E' tempo di turismo, il termometro è sceso a più miti pretese, le strade non sono più coperte da tappeti di automobili, le località più pittoresche sono decongestionate, arrivano ogni giorno a Torino centinaia di stranieri e ciascuno vuole percorrere un itinerario quanto mai suggestivo, l'itinerario del barocco piemontese. La splendida passeggiata inizia a Vicoforte presso Mondovì, il santuario saluta i visitatori con la sua gigantesca mole ellittica, vengono da ogni parte d'Europa per ammirare queste opere di ineguagliabile bellezza. A Garignano non ci si stanca mai di guardare la chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Remigio progettata da Benedetto Alfieri, le chiese del barocco piemontese sono una continua sorgente di emozioni artistiche. Sono i poemi di pietra scritti da poeti dell'architettura, il nostro itinerario fin troppo breve si conclude a Fossano davanti alla chiesa della Santissima Trinità costruita da Francesco Gallo nel 1733.